Lo sappiamo tutti e lo sappiamo anche bene, in questo periodo, soprattutto in questo periodo, il calciomercato è il tema più importante, il tema che fa sognare i tifosi, soprattutto i tifosi rossoneri, tifosi che hanno gioito per la vittoria dello Scudetto e vorrebbero, sognerebbero un mercato importante per alzare l'asticella, per cercare di competere sempre più, non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Europa. Però quando si parla di calciomercato, quando si parla quindi di negoziazioni, andiamo sempre a intrecciarci con il lato economico, il lato finanziario e lo sappiamo tutti come tutti i club europei devono stare attenti alle regole UEFA, devono stare attenti al financial fair play. Poi, ovviamente, su questo tema c'è sempre un grande dibattito perché ci sono alcuni club che facciano un altro sport e sembrano che non rispettino a pieno le regole imposte da Seferin e quindi come rappresentante della UEFA. Lo sappiamo, nelle scorse settimane, lo dicevamo all'inizio video, sono passati un po' in sordina a seguito dello Scudetto, a seguito di altre vicende importanti come i rinnovi di Paolo Madini e Ricky Massara, ma il Milan, come tutti gli altri club europei, ha avuto continui contatti, visite con l'UEFA per valutare che cosa? Valutare il cammino economico, il cammino finanziario dei club verso il break even, quindi verso il pareggio di bilancio. Ricavi uguale costi. E, lo sappiamo, tutti i club europei devono sottostare a quelli che erano i crismi del vecchio regolamento del financial fair play, regolamento che è stato, lo sappiamo tutti, modificato recentemente dalla UEFA. Lo sappiamo anche come il Milan nel 2019, quindi tre anni fa, aveva sottoscritto davanti al TAS di Lausanna un, possiamo dire, un accordo con la UEFA per andare a, in qualche modo, rientrare in un percorso virtuoso, un percorso che avrebbe portato il Milan ad un netto miglioramento dei conti. E questo, possiamo dire, i miglioramenti contabili sono stati netti, con in mezzo un anno e mezzo di pandemia che ha limitato i ricavi, ma il Milan, Ivan Gazetis, tutto lo staff dirigenziale, tutto lo staff manageriale ha saputo lavorare bene. E questo, lo ribadisco, lo voglio dire con forza, non è stato, non è passato inosservato a Neon, alla UEFA, alla sede della UEFA. Sono stati tanti, tantissimi, i complimenti che sono arrivati alla dirigenza dell'Ossonia per l'ottimo lavoro, per quell'equilibrio delicato che ha saputo creare la squadra, il lavoro dirigenziale, parte tecnica di sostenibilità e competitività. Continuo a ribadirlo, gli ultimi giorni, sostenibilità, competitività, i pilastri, i due pilastri su cui Milan sta costruendo il futuro. E possiamo dirlo che, fin quando non ci sarà però una pronuncia definitiva da parte della UEFA sul nuovo accordo che il Milan andrà a prendere, quelli che possono essere gli accorgimenti che il Milan dovrà tenere, come tutti gli altri club europei, il Milan non farà il passo più lungo della gamba in materia di spese, anche perché, e qua c'è la novità, il nuovo regolamento del financial fair play prevede un margine di spesa, quindi di acquisto basato sui ricavi. Lo sappiamo bene, il management rosso e nero, da quando è arrivato a Ivan Gazzidis, da quando si è insediato il fondo Iliot e a maggior ragione adesso che è stato il cambio di proprietà con Redbird, l'aspetto, il punto sul quale il Milan sta lavorando in maniera forte, in maniera decisa. Redbird ha all'interno del suo management, all'interno del suo, possiamo dire, dei suoi collaboratori, persone, manager che hanno competenze verticali, competenze forti sull'ambito marketing, sull'ambito sponsorship. E quindi cosa emerge da questa situazione? Financial fair play, 2019-2018 l'accordo, netto miglioramento dei risultati contabili, soddisfazione da parte di Neon, Milan che vuole migliorare i ricavi perché nel nuovo financial fair play, dicevamo, i ricavi devono essere aumentati perché le spese sono guardanti una percentuale dei ricavi e quindi il Milan sente di aver rispettato il concordato stabilito con la UEFA nel 2019, attende un settlement agreement leggero con sanzioni limitate perché il Milan ha avuto questo, chiuderà a meno 50 si dice, ma ha influenzato tanto dalla pandemia perché il Milan avrebbe raggiunto prima il pareggio di bilancio e quindi tutte, diciamo, fra virgolette, sanzioni, possiamo chiamarle anche osservazioni che non vadano a influire né sull'operatività della società sul mercato, né sui trasferimenti, ma soprattutto sul numero dei componenti della rosa iscrivibili alle competizioni europee. Quindi da parte di Milan c'è grande fiducia, c'è stato un lavoro in maniera importante, intrecciata con la UEFA, Ivan Gazidis ha tante conoscenze in UEFA, c'è stato un rapporto, una collaborazione costante, il Milan è migliorato a livello finanziario, questo molto spesso viene trascurato, viene sottovalutato, ma è un punto fondamentale. Essere a posto con la UEFA vuol dire poter operare sul mercato con maggiore tranquillità, operare sul mercato con tranquillità vuol dire essere anno dopo anno, mese dopo mese, sempre più competitivo. E il Milan è sulla strada giusta, alla UEFA non è passato inosservato tutto questo. Fatemi sapere cosa ne è pensato di questa vicenda, e come sempre se è piaciuto questo video vi chiedete di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.